ciao a tutti ragazzi siamo pronti per un altro match a dirt 4 e andiamo a continuare subito la nostra carriera allora eventi continuiamo la carriera l'ultima volta se vi ricordate abbiamo fatto col peugeot 306 maxi e la spagna ed è andata veramente bene cioè se vi ricordate la prima tappa delle quattro è stata catastrofica è stata veramente brutta abbiamo dovuto fare le riparazioni su strada che abbiamo provato per la prima volta e ci siamo giudicati un posto veramente molto sotto classifica non mi ricordo una trentesimo una cosa del genere però fortunatamente nelle successive tre tappe pian piano siamo risaliti per aggiudicarci il primo posto dell'evento allora adesso siamo in australia proseguiamo e vediamo subito cosa riusciamo a fare questa volta cercheremo di piuttosto tenere un ritmo meno elevato ma cercare di fare da subito delle belle tappe comunque si parte in pianura e pian piano si va in salita perché questa volta il dislivello 130 metri per una lunghezza del tracciato di 5 km 65 ghiaia grossa e terra e ci sono lievi rovesci di pioggia sono le 18 quindi siamo nel tardo pomeriggio ragazzi vediamo cosa riusciamo a combinare questa volta ok saltiamo tutto e ci prepariamo per scaldare il motore e avviamo immediatamente questa tappa partiremo in ritardo va bene cominciamo subito bene ok ragazzi siamo pronti qui piove aspettiamo che ci diano il via freno a mano tirato si parte ragazzi partenza attenzione attenzione destra 3 dobbiamo stare attenti guarda che ruggia che fa sta macchina attenzione al cancello ragazzi subito la fiancata il nostro primo tornante è susterrato ragazzi sinistra 2 attenzione attenzione prena a mano destra 6 non tagliare destra 4 e sinistra 3 non tagliare c'è anche un po' di foschia che non c'è esserci attenzione al sinistra 2 ragazzi 100 in appalla detto stai al centro sui gridali 80 distra 2 60 non tagliare attenzione al sinistra 2 ragazzi non tagliare destra 4 non tagliare e sinistra 3 e destra 4 apre non tagliare sinistra 3 e gridale destra 3 non tagliare in sinistra 2 vieni la sinistra sul gridale stai al centro sui gridali 100 in appalla detto attenzione no non fare cavolate stai al centro sui gridali 80 sinistra 4 stringere e destra 3 non tagliare e sinistra 4 80 stai al centro sui gridali 100 in appalla detto ragazzi stiamo andando a manetta nooo bruttissimo ragazzi che casino abbiamo disfatto la macchina abbiamo disfatto la macchina procediamo senza riparazioni sinistra 4 stringere e destra 3 e sinistra 4 non tagliare 80 vieni la sinistra abbiamo esagerato attenzione destra 1 e destra 4 sul gridale vieni la sinistra sul gridale questa volta proviamo a proseguire ragazzi stai al centro sul gridali 100 stai al centro sul gridali 100 in appalla detto vediamo ragazzi se riusciamo a tenerla in strada tieni la destra sul gridale sinistra 2 60 non tagliare sinistra 3 è difficilissimo è difficilissimo perché mi tira a sinistra di brutto la macchina quindi anche nel rettilineo è difficile tenerla cioè mi tira a destra voglio dire nel frattempo siamo ancora primi per il momento no? secondi altra guarda abbiamo fatto bene ragazzi a non ripararla visto che ormai eravamo già quasi arrivati chiaramente ragazzi quando si esagera così tanto si rischia migliorarci nella prossima tappa dicevo quando si si osa così tanto si rischia veramente di fare dei danni catastrofici comunque il risultato della tappa è stato un terzo posto non so come cosa succede adesso cioè se abbiamo una macchina così danneggiata e di solito ci permettono di ripararla ogni due tappe nel caso si danneggi così tanto la macchina vediamo cosa succede cioè non penso che ci facciano fare la seconda tappa con una gomma forata adesso vediamo allora Eventone 2 di 2 tappa numero 2 di 4 4 km e 34 molto più breve il tracciato e questa volta è un 75 metri di disliverlo terra e ghiaia grossa sono le 19.15 il tempo è secco quindi non pioverà questa volta però abbiamo scarsa luminosità ok vediamo se la vettura ci è stata riparata io spero che la gomma l'abbiano almeno messa a posto ok freno a mano tirato si la gomma è a posto però sbanda comunque un po' la mano è tutta storta ragazzi qui non piove ragazzi ma il terreno è tutto bagnato sinistra 5 è difficile tenerla in pista il destra 4 e sinistra 3 sul crinale non tagliare destra 5 cancello montante in appallamento crinale tieni la destra sul crinale 110 in appallamento tieni la destra sul crinale 80 attenzione crinale sinistra 2 60 in appallamento tieni la sinistra sul crinale numero però destra 6 non tagliare sinistra 6 tieni la destra sul crinale non tagliare destra 2 crinale 80 tieni la sinistra sul crinale 80 110 in appallamento tieni la sinistra sul crinale e crinale possibile salto 60 cancello crinale e appallamento destra 3 sul crinale 80 in appallamento crinale ottante in appallamento sinistra 3 sul crinale Abballamento e crinale, nel cancello, destra 5 Sinistra 6, lunga, stringe sul crinale, non tagliare Destra 5, 80, destra 6 e sinistra 5 sul crinale No, attenzione ragazzi, stiamo per sbandare Su due ruote fuori Stai al centro sui crinali Cento in abballamento E nella destra sul crinale Sinistra 4, stringe, non tagliare E destra 3 E sinistra 4, non tagliare 60, destra 3, 60, non tagliare Destra 2, non tagliare Sinistra 2, 60, non tagliare Sinistra 3, non tagliare Destra 5 Altra 4 Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ok, verso il commissario Scivolosissima questa pista Veramente scivolosa Poi abbiamo le macchine veramente in condizione pietosa Ok, cosa ci siamo aggiudicati questa volta? Siamo aggiudicati risultati tappa secondo posto Quindi siamo passati da un terzo posto della scorsa tappa a un secondo posto Meno male, almeno questo Comunque adesso vediamo le riparazioni quanto tempo ci vorremmo per ripararle Abbiamo fatto un incidente veramente catastrofico questa volta Ok Allora Aspettiamo il caricamento Prossima tappa 3 di 4 7,44 km Tutto diciamo piana O comunque di poca roba Ghiaia, grossa e terra Sono le 2 di notte ed è nuvoloso Cazzo, le 2 di notte I stirellisti corrono anche di notte ragazzi È notte fonda Ok Proseguiamo E vediamo subito che cosa ci aspetta come riparazione Ripara veicolo Riparazioni consigliate Seguiamo i consigli 19 minuti e 50 20 minuti ragazzi Questa volta è stato il danno più grosso che abbiamo mai fatto Perché 20 minuti non mi era ancora mai capitato Allora Confermiamo le riparazioni Vediamo cosa ci viene a costare E beh stavolta ce n'era da riparare Gratis Ammazza Buono sto carrozzaio Avviamo la tappa La nostra vettura è totalmente riparata Ma è ancora sporca Io non so come fanno questi meccanici E carrozzieri Ad aggiustare le macchine Senza pulirle Si parte Notte fonda ragazzi E' diventa molto scarso Abbiamo dei buoni fari Però è notte ragazzi E' sinistra 3 Non tagliare E' destra 4 Apre Sinistra 3 Non tagliare E crinale Destra 3 E' sinistra 2 Tieni la sinistra sul crinale Attenzione Destra 1 E' destra 4 Sul crinale Sinistra 4 Stringe E' destra 3 E' sinistra 4 60 Tieni la destra sul crinale 80 Attenzione crinale Sinistra 2 60 In ammallamento Tieni la sinistra sul crinale Destra 6 Sinistra 3 Stringe In destra 4 Spegnativa ragazzi 80 In ammallamento Sinistra 5 Non tagliare 80 In ammallamento Attenzione crinale Destra 5 E' sinistra 6 80 Sinistra 4 E' attenzione Destra 2 Sul crinale In destra 2 Non tagliare Portante in ammallamento Sinistra 5 200 Ammallamento Destra 5 Crinale Tornante Sinistra Dossi 80 Numero Sinistra 5 Andate i solchi Che lasciamo per terra E' sinistra 4 In destra 5 Nel cancello 60 Crinale Appallamento Come adoro questi cancelli 80 In appallamento Crinale Destra 5 Lunga Non tagliare Attenzione crinale Possibile saldo Destra 5 Non tagliare Destra 5 Nooo Non tagliare Cioè io ogni volta Che sono nei pressi Di un salto Ragazzi Mi esalto Veramente No dai No Ma che cagata Ogni volta Dicevo che c'è un salto Mi esalto Talmente tanto Che non penso A cosa ci possa essere Davanti Ma spalanco Sempre a manetta Lo so E' un errore 100 In appallamento Crinale Possibile saldo Appallamento Destra 5 Sinistra 6 Lunga Non si vede niente ragazzi Destra 6 E sinistra 5 Sul crinale Tanti in appallamento 80 Tieni la sinistra Sul crinale 100 In appallamento Stai al centro Sul crinale 80 Destra 5 Tanti in appallamento Sinistra 5 Lunga Stringere Non tagliare In destra 3 Stai al centro Sul crinale 100 In appallamento Tieni la destra Sul crinale Stai al centro Sul crinale 100 In appallamento Tieni la destra Sul crinale Sinistra 2 60 Non tagliare Sinistra 3 Non tagliare 60 Tieni la sinistra Sul crinale Attenzione Destra 1 E Destra 4 Sul crinale Sinistra 3 Stringe Destra 4 Apre Lunga Non tagliare Non stanza In appallamento Sinistra 4 5 Destra 4 E Sinistra 3 Non tagliare E Destra 4 Apre No Testo coda Ragazzi No Che brutta cosa Ragazzi Pesante Giocare di notte Ragazzi E Destra 4 Apre Pesantissimo Poi con una pista così Ragazzi È veramente dura E Gridale Destra 3 Non tagliare Sinistra 2 Condante in appallamento Attenzione Attenzione Crinale Destra 5 E Sinistra 6 80 Sinistra 5 Crinale Crinale Contante in appallamento Sinistra 5 Lunga Destra 3 Lunga Apre Su Crinale Appallamento Appallamento Destra 5 Sinistra 5 Destra 3 Crinale E Sinistra 4 In Destra 5 60 Sinistra 5 Appallamento Sinistra 3 Lunga Stringe su Crinale 80 Attenzione Prenna Destra 3 Altra 4 Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Tappa conclusa Classifica I tempi Confermati Ci siamo aggiudicati Questa volta Un sedicesimo Po Quindicesimo Posto Siamo scesi Al sesto Posto Questo Ragazzi E' il punto Del campionato In cui Soffriremo Parecchio Perché Ci abbasserà La classifica Quindi dobbiamo Essere più bravi Alle prossime Tappe Ai prossimi Eventi Per cercare Di recuperare Il danno Che abbiamo fatto Allora Spero che qui Visto che Sono le 4 E 50 Del mattino Quasi le 5 Quindi l'alba Ci sia un po' Più di visibilità Da poter recuperare Un pochettino E comunque Il tracciato E 4 km 21 5 Il dislivello Ghiaia grossa E terra Coperto Quindi anche qui Potremmo trovare La terra Leggermente bagnata Perché la scorsa Tappa Ragazzi Che abbiamo appena fatto Oltre a essere Scivolosa Era anche Complessa Con tantissime Cambi di direzioni E E poi Era buio Cioè Si faceva fatica Vedere Come avete visto Anche a fine tracciato Non avevamo neanche Il kit di fanali Aggiuntivi Quindi Si poteva anche Magari Mettere Comunque dai Proviamoci ragazzi Vediamo cosa Se possiamo combinare In questa ultima Tappa australiana Freno mano Tirato Semaforo rosso Si parte ragazzi Stai al centro Stai al centro Su gridare 80 Sinistra 4 Stringe Non tagliare E Destra 3 E Sinistra 4 Non tagliare 60 Destra 3 Non tagliare In Sinistra 2 Lunga Apre E Tornante Apetto Destra 80 Tieni la sinistra Su gridare Centro In appallamento Stai al centro Su gridare 80 Destra 5 Tornante In appallamento Sinistra 5 Lunga Stringe Non tagliare In Destra 3 Sinistra 2 60 Non tagliare Sinistra 3 Non tagliare Tornante In appallamento Adeggiare Trinale Destra 5 E Sinistra 6 Centro Destra 5 Lunga Non tagliare Attenzione Trinale Possibile salto Destra 5 Non tagliare 80 Attenzione Frena Non sottornante Destra Trinale Sinistra 5 In appallamento Tieni la destra Sul gridare Fatto un po' Rallentatore Sottornante Tieni la destra Sul crinale 80 Attenzione Trinale Sinistra 2 Sessanti In appallamento Tieni la sinistra Sul crinale Destra 6 Non tagliare Destra 5 Contante in appallamento Sinistra 5 Lunga Stringe Non tagliare In destra 3 Attenzione Sinistra 4 Sul crinale E sinistra 5 E sinistra 5 E sinistra 5 Tieni la destra Sul crinale No attenzione Tieni la destra Mi ha avvertito Sinistra 3 Crinale Non tagliare E destra 4 Destra 4 Non tagliare E sinistra 3 E destra 4 Apre Non tagliare Sinistra 3 E crinale Destra 3 Non tagliare Sinistra 2 Crinale Destra 4 Non tagliare E attenzione Sinistra 2 Stringe Crinale Destra 3 Stai all'interno Non tagliare In sinistra 5 Destra 6 Sinistra 6 Tieni la destra Sul crinale Non tagliare Destra 2 Crinale 80 Tieni la sinistra Sul crinale 80 Sinistra 2 60 Non tagliare Sinistra 3 Non tagliare Destra 4 Non tagliare E sinistra 3 E destra 4 Apre Non tagliare Tieni la sinistra Sul crinale Al traguardo Ci siamo ragazzi Ci siamo Traguardo Si stanno incrociando Gli occhi Ragazzi La nostra macchina È praticamente Fracassata Davanti Vediamo il risultato Allora Beh Non è andata Poi così malaccio Cioè È stato pieno Di incidenti E pieno di errori Queste 4 tappe Però Alla fine Fortunatamente All'ultimo Riusciamo sempre A recuperare Per il momento Risultati tappo Primo posto E la classifica Evento Siamo risaliti Al terzo posto Che culo Ok Godiamoci Il nostro spettacolo Terzo posto Questa volta Medaglia di bronzo Purtroppo sì Vediamo Nell'evento totale Cioè Delle 8 tappe Che cosa Ci siamo aggiudicati Allora Soldoni 68.000 crediti E il che non è male Questa volta Siamo saliti Ancora di livello 21 Professionista Degli incidenti Probabilmente Ok Ok Ingegnere capo Sbloccato Benissimo Vediamo i progressi Campionato E siamo Ancora Al primo posto Ragazzi Ok Per fortuna 40 punti Per noi Bene Allora Cosa fare Alla prossima Concludiamo qui Questo video Innanzitutto E alla prossima Volta Ci aspetta La coppa Agni 2000 Che qui In evidenza Abbiamo la Ford Focus Ve la ricordate Da tantissimo Tra l'altro Che non la guido Nei giochi di rally E quindi Prossima volta Ci spareremo Questo evento E vedremo Cosa Riusciremo A fare Ciao a tutti Ragazzi E Restate sintonizzati Ciao a tutti Complimenti Hai terminato La visione Da questo momento Hai 10 secondi Per fare La tua scelta La sua scelta